Perchè vede collega, come le dicevo, forse è partita la puntata. Buongiorno a tutti, ma non stavo dicendo nulla di segreto. Noi ci chiediamo anche fuori dalla... Stavo appunto dicendo al collega Bastetti che se non ci fosse la legge non ci sarebbe neanche o ragione avvocata. Eh, è vero. Bentornati. Tra le varie cose che ricita la canzone, se non ci fosse la legge anche non ci sarebbe o ragione avvocata. Devo aggiornare il testo di questa canzone. Bentornati a Videonovara, Orion TV, emittenti tutte collegate. Abbiamo ancora oggi per voi due argomenti direi sempre di attualità. Comincerà il collega Bastetti con un... Sì, mentre la volta scorsa abbiamo parlato di condominio, un argomento in cui più volte ritorniamo. Adesso una cosa nuova, nel senso stiamo parlando di Tari o del calcolo errato da parte di alcuni comuni italiani. So che interessa ma lascio fare a lei proprio perché più... Mentre da parte mia ci sarà ancora una volta, ogni tanto se ne accenna, un po' di prevenzione ma mirata e con qualche valutazione che magari in certe puntate precedenti non abbiamo fatto, sulle possibili truffe, possibili esche che il mondo di internet offre. Anche perché ultimamente ho visto che insomma con l'uso del telefonino, a me lo sappiamo, si va in giro con, almeno non tutti, ma con lo smartphone sempre con lo sguardo lì e poi dopo magari si urtano. Si urta contro un pallo. E anche peggio. E c'è una certa, ma poi lo dirò dopo, una certa capacità di uso del telefonino e le fotografie, i social, Instagram, eccetera, ma ancora forse manca. Io guardo, guardi, quando parla di questo argomento sto sempre ad ascoltarla perché so che lei è un esperto e questo serve a tutti, serve a tutti perché oggigiorno chi è che non usa... Ma anch'io leggo i giornali. Sì, sì, però lei è uno che io magari in questi argomenti li tralascio un po'. Bene, ma lei ci parla dell'Atari che invece tralascio io. L'Atari è un po' costretto per la verità. Non è quel famoso gioco l'Atari? No, no, no. All'epoca non giocavo io. La tassa rifiuti, ovviamente. Va bene. No, un po' costretto sono stato... Non rifiuto di ascoltare. Non rifiuta. Vada. Rifiutiamo di pagare l'Atari. No, questo no. Però, come dicevo, sono stato un po' costretto a studiare questo argomento, a studiare comunque, a approfondire. Sì, più che altro che come associazione ai consumatori, proprio ieri, sono venute perché persone a chiedere conto di questo, perché se ne parla, no, e telegiornali e tutto. Allora ho trovato un interessante articolo sul portale La Legge per Tutti che ci aiuta sempre. È di buona consultazione. Veramente. Sì, sì. In cui finalmente, cioè, ho chiaro, almeno, e cerchiamo di spiegarlo un po' ai nostri ascoltatori, cos'è successo. Perché è un argomento, in realtà, che riguarda le tasse e tutto, per cui non è propriamente specifico. Ecco, qui ci sono anche i commercialisti che è un po' il loro campo. Però questo articolo è fatto veramente bene. Allora, in buona sostanza dice che è emerso l'illegittimità di questo comportamento da parte di alcuni comuni, poi bisogna verificare quali. Spiega anche nell'articolo come cercare di capire se è stato applicato o meno nel caso specifico, ed è stata, questa cosa è stata smascherata da un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Economia. Una volta tanto. Una volta tanto anche le interrogazioni parlamentari hanno un buon risultato. Ecco. Il quale ha chiarito che non sono corrette le modalità di calcolo da parte di alcuni comuni, o meglio, ha chiarito quali devono essere le corrette modalità di calcolo. Ecco, vediamo sulla, sta parlando della tassa rifiuti. Allora, la parte variabile, che è questo proprio oggetto della contestazione, della diatriba con i comuni, viene determinata secondo il numero delle persone che fanno capo alla medesima utenza. Per cui, allora, intanto la Tari viene calcolata in base ai metri quadri, e c'è una parte fissa in base ai metri quadri, e poi c'è questa parte variabile che viene calcolata sul numero dei residenti, delle persone che fanno capo a quest'utenza qui. Quindi, ad esempio, se alla stessa utenza sono collegati, oltre alle immobili in questione, delle pertinenze, come ad esempio il magazzino, il garage, il box, la parte variabile non va conteggiata due volte, come erroneamente hanno fatto alcuni comuni. Cioè, per cui caluteggiano due volte, allora, a parte i metri quadri, no? Che quelli, va bene. Per cui, però, lo spiega, c'è proprio il caso specifico. In quanto non dipende dai metri quadri occupati. Allora, immaginiamo l'esempio delle due famiglie, entrambe composte da quattro persone. Una, però, occupa un appartamento di 150 metri quadri, mentre l'altra occupa un appartamento di 150 metri quadri, oltre a 50 metri quadri di pertinenza. Ebbene, in entrambi i casi, la quota variabile è sempre la stessa. Non è che la quota variabile si calcola anche sui metri quadri delle pertinenze, bensì soltanto sulla abitazione. Cioè, l'altra è la quota, invece, fissa, che va calcolata a 150 metri quadri di abitazione, più 50 delle pertinenze. Ho capito. E questo è il primo errore. Che errore... Ecco, diciamo così, siamo buoni, siamo buoni. Diciamo che è un errore, da parte di alcuni comuni. Allora, poi dice, come se ciò non bastasse, vi sono poi delle amministrazioni locali che tassano le pertinenze sulla base delle tariffe previste per le utenze non domestiche, applicando gli importi dovuti per le categorie autorimesse e magazzini. Ho capito. Per cui, invece, le pertinenze dell'appartamento vanno calcolate come utenze domestiche, per cui hanno un importo, ovviamente, inferiore. Non va calcolato come utenze non domestiche. E questo, teniamo presente, anche in presenza di regolamenti condominiali che prevedono il contrario. Cioè, nel senso, la legge prevale. Non è che il regolamento condominiale possa superare questa cosa. Ecco, alla luce di ciò, è emerso che i contribuenti, cioè tutti noi toccati da queste, perché poi bisogna verificare se anche nei nostri casi è avvenuto questo, abbiamo la possibilità di chiedere il rimborso degli importi e pagati degli ultimi 5 anni, chiedo scusa, 5 anni, che è la prescrizione della tassa su rifiuti. Per cui, chiedere il rimborso delle maggiorazioni pagate impropriamente e richieste impropriamente dai comuni. In caso di niego, c'è la possibilità di fare ricorso alla commissione tributaria. Allora, diciamo che, ecco, per verificare, questo è il suggerimento, perché se no l'articolo è abbastanza lungo, sto cercando di arrivare al sodo, per verificare se fa parte, se si fa parte di questi contribuenti truffati, tra virgolette, basta leggere il dettaglio, vessati, erroneamente, per pure errore. Allora, basta leggere il dettaglio della richiesta di pagamento dell'Atari e verificare se la quota variabile è stata calcolata sia sull'appartamento che sulle pertinenze. in tal caso bisognerà muoversi al più presto. Ecco, il primo passo appunto è fare una raccomandata al comune con ricevuta di ritorno, oppure a quell'ente che si occupa di escutere la tassa su rifiuti. Ecco, se il comune allora, ci sono i due casi, il silenzio o il rifiuto. Se il comune come dire, invia una lettera di diniego, cioè rispinge questa richiesta, risponde, ma rispinge a questa richiesta, il contribuente deve necessariamente entro 60 giorni, rivolgerse a un avvocato o un commercialista, fare ricorso alla commissoria tributaria provinciale. Se il comune non risponde, a questo punto si tratta di silenzio, il termine per fare ricorso sono 90 giorni. Dopo i 90 giorni uno può fare ricorso alla commissione tributaria. In realtà poi può avvenire anche questo che i comuni avvedendosi, cioè per prevenire questi innumerevoli ricorsi perché, come dico, anche le associazioni di consumatori si stanno un po' attivando in questo senso, si stanno muovendo anche in autotutela, cioè corregendosi da soli. È uno di quei termini che studiamo abbiamo sbagliato, è l'autotutela è una buona cosa. che poi è difficile trovare nella realtà. Per cui ben venga insomma il comune che si avvede dell'errore e che torna sui suoi passi e probabilmente dovrà comunicare immediatamente prima della, perché poi con la commissione tributaria c'è il rischio anche delle spese ovviamente legali. ovviamente. Per cui può essere interesse del comune anche riconoscere l'errore prima e cercare di insomma trovare un accomodamento in autotutela. Comunque questo era un po' il discorso che si faceva all'epoca dell'impugnazione per i parcheggi per il Musa però lì l'autotutela non ricordo che ci sia. E' stata utilizzata. E' stata utilizzata. Beh, comunque allora da parte mia invece io prendo questo fresco giornale che è Idea Web altre volte ne prendo anche altre insomma dove a volte si incontrano articoli piacevoli anche interessanti come per esempio questo poi saprei anche raccontarvi magari un po' da solo ma visto che ci sono i famosi punti uno, due, tre facciamo prima a prendere proprio una scaletta una scaletta non cadete in trappola effettivamente che un po' il discorso si faceva anche per quando si fanno le riunioni i convegni sulle truffe per gli anziani e purtroppo si fanno e poi la cosa rimane lì cioè il convegno l'albumetto quant'altro mentre c'è una proposta che magari prima o poi andrà in essere non lo so quella del tè delle cinque cioè che venga illustrato questo tipo di truffe agli anziani alcuni magari seduti di fronte con un tavolino con il tè biscotti fumati e a loro volta poi questi a modi tam tam a modi di cerchio che si allargano un altro te o altri te è perché la ripetizione è un po' come l'omelia che è anche un modo per socializzare oltre a per imparare molte cose altrimenti ripeto spesso le cose rimangono un po' lettera morta anche qua per esempio io vedo che ultimamente il tempo è già tiranno ma comunque riassumiamo ultimamente lo sviluppo e l'uso dei telefonini che ormai sono dei computer veri e propri hanno introdotto anche l'utilizzo anche per persone di una certa età ma prima si diceva i genitori devono chiedere ai propri figli i quali ne sanno sì i figli ne sanno sempre di più credo in tema informatico soprattutto però anche sulle tutele magari ecco neanche quello sì ma anche i genitori o i nonni talvolta usano questi programmi che sarebbero messaggistica come Whatsapp Instagram in realtà nascondono poi molto del social network beh anche Facebook ma Facebook ormai sta diventando un po' più per noi insomma di età medio alta e quegli ragazzi si muovono su altre piattaforme comunque sia anche gli adulti hanno preso maggiore consapevolezza nell'uso e nell'abuso di questi programmi ma non tanto nella attenzione a quelle che anche tramite Whatsapp anche tramite Instagram tramite Snapchat e altre cose che non so non le so tutte ecco possono arrivare per esempio attenzione punto uno ai link provenienti da numeri sconosciuti per esempio ci sono dei link che a volte arrivano e magari ti portano a un sito anche sul computer su un sito truffa in questo per esempio anche Whatsapp ha introdotto la funzione di anteprima del url cioè dell'indirizzo perché si capisca magari dove quel link sta per portare o no certo non bisogna avere fretta perché la fretta è quella che ecco arriva un link subito schiaccio non va bene o il mouse assolutamente no poi questo è un'altra cosa interessante controllare il dominio il nome presente in questo link anche nelle mail per esempio arrivano delle mail da non lo so pseudobanchi oppure il paypal che è un appoggio ecco ma attenzione a volte l'italiano sgrammaticato è importante vedere paypal paypal come si scrive ma se poi si va a cliccare il nome è totalmente diverso sotto è diverso o è leggermente o è brutalmente diverso e allora se poi questo link e questa mail ci dicono attenzione ti abbiamo bloccato il conto paypal dacci codici eccetera ecco non crediamoci non crediamoci assolutamente perché basta poi un ok e da lì si viene un po' trascinati nel gorgo ed è un attimo rifornire ridare i propri dati e naturalmente l'hacker di turno provvederà a incamerali e a utilizzarli attenzione anche a questo le versioni modificate dei programmi tipo whatsapp ce ne sono alcune che circolano sono mod modificate che cosa danno in più ma magari la cancellazione del messaggio è solo da anche whatsapp magari un qualche cosa ma è tutta un po' una fuffa se vogliamo usare la parola tipica perché per esempio questi store alternativi che non sono il play store di google oppure gli altri play store quelli del mac eccetera a volte forniscono dei programmi che sono un po' dei malware cioè neanche tanto dei virus ma comunque portano delle disfunzioni al telefono per reperire i dati e per succhiare i dati quindi ecco la versione modificata di whatsapp magari evitatela e state allerta all'occhio su quelle che sono invece le notizie sul whatsapp ufficiale poi anche lì non scaricare applicazioni per esempio la pubblicità a volte arriva dentro e dice appena scaricato un'applicazione per esempio questa mattina me ne ha suggerita una un'autorità radio televisione italiana un'applicazione gratuita che permette di vedere sul telefonino i canali in chiaro rete 1 anche qui poi ci sarebbe da capire se c'è il discorso dell'abbonamento perché il cannone erai credo che non sia ancora stato abolito quindi lo riflettevo adesso ecco ma anche lì poi magari appena scaricata una certa applicazione che di per sé è buona ossia non fa particolare danno ecco che subito arriva una richiesta scarica anche questa per usare quella non è vero per esempio questa applicazione della tv normalmente dice scaricati anche questo ti dice allora devo farlo no è sufficiente tornare indietro e trovare il pulsante giusto e chiudere la finestra ingannatrice lo so sono tutte cose magari i ragazzi sono più svegli sotto questo profilo ma anche noi se li usiamo dobbiamo stare molto attenti perché poi siamo noi quelli che diamo magari i dati della carta di credito o delle poste pay ok e poi ecco adesso potrei andare avanti se è ancora qualche altro punto ma tanto questa trasmissione la potete rivedere sia su ho ragione avvocato pagina facebook buona pagina facebook e sia anche su youtube ma ecco un'altra cosa importante le catene di sant'antonio che ogni tanto arrivano oppure per esempio certi messaggi che sono poi si rivelano delle bufale oggi è veramente difficile a volte distinguere 17 anni quali siano le bufale da no però una cosa da fare subito è andare su un sito anti bufale come quello di Paolo Attivissimo andare su google e fare una ricerca lì non lasciare che le cose entrino senza un minimo di spirito critico e come spirito critico io mi critico e chiedo scusa tagliamo perché abbiamo sforato abbondantemente ci sentiamo la prossima puntata di ho ragione avvocato grazie a tutti per l'ascolto grazie a tutti